Ciao ragazzi, bentornati di fronte alla mia cinepresa. Oggi siamo qua con Stefano Bodria. Ciao ragazzi. Detto il Panda, quindi siamo direttamente dalla Batcaverna del Panda. E oggi siamo qua per imparare un po' più da lui e un po' meno da me. Nel senso che parleremo un po' di quelli che sono gli elementi fondamentali dei calistemici, cioè di quelli che sono un po' più le skill che vengono presentate come le cose più belle da imparare e capire da quella che è la sua esperienza come atleta e come allenatore quali possono essere un po' le soluzioni ai grossi dubbi che si presentano nel sviluppo di questi elementi. Logicamente non vuole essere una bibbia, vuole essere più una condivisione e capire dove una persona che ha raggiunto una buona quantità di risultati sopra la media, soprattutto perché non pesa 24 kg, giusto? 84. 84. Ok, quindi capire come una persona sopra la media possa comunque ottenere determinati risultati. Oggi parliamo quindi del frontlamer, quindi la prima roba che ti voglio chiedere è da quando hai iniziato ad allenarlo, quanto ci hai messo per impararlo? Allora, il mio trascorso con il frontlamer è molto travagliato in quanto da quando ho iniziato ad allenarlo ho perso parecchio tempo allenandolo male e a caso, quindi ho impiegato un paio d'anni abbondanti a prendere la sua forma finale e appunto ho avuto diverse difficoltà, soprattutto perché non capivo quale fosse la tecnica corretta. Quindi, innanzitutto, la cosa principale, fondamentale delle skills, a mio parere, è capirle. Capire quale sia il giusto modo di attivarsi, il giusto incastro articolare, eccetera. Quindi, nello specifico, parlando del frontlamer, fate sempre ben caso di avere le braccia completamente tese, perché sennò, dopo, siete bent e non vi porto da nessuna parte, perché alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Ricordiamo, il tuo massimale secondaggio frontlamer, il massimo che hai raggiunto è stato? Sono stati 18 secondi. Ok, non male, ok. Quindi, dicevamo, le braccia, poi? Quindi, braccia belle e tese. Secondo, la cosa fondamentale del frontlamer è capire questo movimento. Quindi, il fatto di spingere, dirigere la forza verso i fianchi, quindi sentire bene lavorare il dorsale. Quindi, non è uno stare appesi, è pensare a fare questo movimento di attivazione, perché anche solo l'idea di attivare un certo muscolo crea un'attivazione maggiore a livello del sistema nervoso. Un po' come quando avete un carico massimale e voi pensate a spingerlo più velocemente possibile, dà comunque un effetto maggiore. Dov'è che tu hai riscontrato più difficoltà? Cioè, c'è stata una fase nell'apprendimento, quindi passando magari da una didattica all'altra, dove tu hai riscontrato la difficoltà maggiore? Allora, innanzitutto ho avuto due fasi di questo tipo. Mi ricordo benissimo il passaggio dall'advanced stack alle varianti più avanzate. Infatti, l'advanced stack mi ha spezzato le gambe, nel senso che ho passato tantissimo tempo, proprio per il discorso che facevamo prima, non riuscivo ad attivarmi correttamente. Poi, una volta capito il movimento, è stato abbastanza un percorso in discesa, fino ad arrivare alle varianti finali, quindi il full front lever. Me lo sono ritrovato dopo aver litigato un pochino con la divaricata e la mezza completa. Quindi, il passaggio da divaricata a mezza completa per me è stato quello più difficile, mentre il completo me lo sono ritrovato, il full front lever me lo sono ritrovato da solo dopo appunto aver passato quella fase un po' più difficile. Quindi, il discorso è non allenarsi mai a cedimento, mai su varianti che non permettono di eseguire il movimento alla perfezione. è di avere un secondaggio minimo. È come dire, potete migliorare in panca facendo sempre il 98% del massimale per un colpo. Vi bruciate il sistema nervoso. Bisogna sempre avere un margine. Quindi arriviamo un po' alla domanda che tutti vogliono sentire. Se tu dovessi dare una percentuale tra l'importanza del lavoro prettamente isometrico sull'apprendimento del front lever e la rilevanza del lavoro dinamico. Cioè, se dovessi dire l'80% è a x, il 20% è a y o se dovessi consigliare, diresti, lavorate sulle dinamiche, lavorate sulle isometriche. Quella che è la tua esperienza. Io ho già detto la mia a riguardo e come io alleno le persone che seguo. Allora, farò di più. Vi dirò esattamente quello che ho fatto prima. Peccato che questo. Prima di prendere il front lever. Esatto. Tre volte a settimana. Ok. Due volte esercizi isometrici. Una volta esercizio dinamico in arringo isometrico in posizione. Quindi un sacco di isometrie. Ok. Ma mai tirate a massimale. Sempre tante serie a un buffer medio-alto. Quindi io facevo due volte a settimana, mezza completa, full, mezza completa, full, per un paio di ripetizioni, con tenute più prolungate possibile, senza mai cuocermi. Due volte a settimana. Terzo avvenamento, i sollevamenti, quindi i raise, con blocco isometrico in front lever, in mezza completa. Quindi, come vedete, il rapporto è sempre due a uno. Su tre allenamenti alla settimana e due tassi sono i lavori isometrici. E comunque il terzo allenamento ha sempre una forte componente isometrica perché facevo il raise con blocco isometrico di 6-7 secondi. Questo perché per poter fare un lavoro dinamico concentrico ti serve più forza rispetto al tenere l'isometria. Se hai due secondi di front lever isometrico, il raise con blocco non lo riesce a fare. Quindi la dinamica ci può stare a patto che sia lavorata ad una variante che sia più semplice. Giusto? Detto questo, l'ultima roba che io ti volevo chiedere, che è una cosa fondamentale, ecco, il lavoro cronico sul front lever, quindi protrarlo al massimo, ti ha mai portato ad avere qualche fastidio alle spalle, qualche problema posturale, qualche noia in generale nella parte superiore del corpo? Allora, quando lo allenavo in maniera scorretta, quindi braccia piegate, tenute a caso, serie senza senso logico, mi provocò una contrattura grande dorsale e rischiai un'epitropidite. Ma, per fortuna, mi fermai prima e la contrattura mi durò un po' di tempo. Piccolo aneddoto divertente, una volta addirittura mi partì un crampo fortissimo al femorale, allugito il femorale facendo front lever e mi durò per due settimane. Ok, allora, voglio un attimo fare un'ultima domanda, che è una cosa che magari assilla tante persone, ok? E riguarda un po' quel discorso della postura delle scapole, quindi oggi sentiamo quello che ci dice lui. Quindi, quello che ti voglio chiedere oggi è, se tu hai mai provato a sperimentare posizioni diverse delle scapole, quindi c'è chi dice protratte, c'è chi dice retratte, ci sono solo quelle due lì, poi c'è chi dice neutre. Allora, quello che voglio chiederti è, tu hai provato o hai mai provato a lavorare con queste tre diverse posizioni e in quale ti senti di andare a esprimere più forza, per quella che è la tua esperienza? Perché logicamente fare front lever a 85 kg non è come farlo a 50 kg, quindi l'idea è trovare, nel suo caso, un assetto che gli permettesse di sviluppare più forza possibile. Allora, assolutamente una lieve protrazione con depressione marcata delle scapole, perché se voi provate a fare questo lavoro, sentirete assolutamente attivarsi il dorsale nella maniera corretta. E non solo su di me, ma su tutti gli allievi che seguo, questa cosa ha dato risultati, questo accorgimento ha dato risultati isperati. Quindi ho allievi anche molto alti e che pesano quanto me, un metro e novanta di ragazzi e stanno migliorando tutti tantissimo da quando hanno capito questo lavoro qua, delle scapole. Ok, ultima cosa, lo so che ho detto ultima, te dici volte, ma questa volta è veramente l'ultima. Mi rendo conto che si tende un po' a fare fatica a concepire l'allenamento a corpo libero come qualcosa che non debba essere fatto nella quantità giusta, ma che debba essere fatto in ultramisura per ottenere per forti risultati. Quindi c'è chi, per esempio, nella scheda ha i front lever 4-5 volte alla settimana e ha 2-3 esercizi per i front lever nello stesso allenamento. Quindi quello che volevo chiederti io è, l'ultima domanda e poi questo concluso, quando hai ottenuto il massimo dei miglioramenti? Quanti esercizi per i front lever facevi in una seduta di allenamento e quante volte allenamento in front lever in una settimana? Come ho già detto, da più o meno sempre, in realtà, 3 sessioni settimanali e da quando ho adottato un singolo esercizio per seduta, magari per più serie, 4, 5, 6 serie, voglio esagerare, di quel singolo esercizio ho avuto il massimo incremento. nelle prestazioni, anche perché allenando altre skill diventa difficile riuscire a gestire un volume più elevato di lavoro. Cioè è probabile che arriviate ad ammigliorare tanto in un movimento ma ci sia qualcos'altro che ne risente. Prova a me, è l'ultimo periodo dove è diventato un mostro in planche, però ahimè, blocco della planche, attivazione del dorsale, front lever, sono andato. giù a picco Titanic, ok? Da 18 secondi sono passato 8, ok? Quindi Titanic front lever, ok? Buono, quindi questa puntata qua per i front lever è finita, ricordatevi di seguirlo sul suo profilo, sulla sua pagina, c'hai un canale YouTube? Canale YouTube, Bear Bros Academy, Bang Bros, Bear Bros, fratelli orsi, va bene, lui riceve a Genova, Atuterme, comunque a basso di mondo. Per quel che mi riguarda, Piemonte, Genova, Lombardia, per me è un punto di riferimento, quindi se siete in quelle zone, non potete farvi 2-3 ore di macchina, ok? Va bene, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento, non so di cosa parleremo, ma ne parleremo. Ciao ragazzi, swag, swag, swag.